Ok, vi faccio vedere questo gua Come ti permetti? Abbiamo dato le mozzarella Che stava? Eh, io volessimo sapere quello che... Avete visto la mia agilità? Quella che ho visto, un paese mio, si chiamerà da manero. Ma che si era da chiedere? O meglio! L'onore è l'onore! E la canestra è un ucciatino? E come no? Ma tu ci credi alla donazione degli organi? Sì! E' perchè non me la dai? E' una venta sacca tu! Alì, eh! Oh! Ho partapoglie! Oh! E' arrivato direttamente lo schiatta morto! Ho la schiatta morto! Io sono il medico! Ho la schiatta morto! 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 Grazie a tutti